Le indagini sono state chiuse e i magistrati della procura ipotizzano una serie di presunte truffe e danni di diversi clienti, ma anche una appropriazione in debita ad almeno 60.000 euro, soldi che non sarebbero stati trasferiti alle società per le quali ha operato come broker assicurativo in città. Una cinquantenne dovrà rispondere alle accuse in giudizio il prossimo maggio. Sono stati ricostruiti presunti a manchi e polizie rilasciate solo per intascare i soldi versati da una decina di clienti. In alcuni casi non avrebbero neanche ricevuto i contrassegni previsti. Gli approfondimenti investigativi hanno riguardato un periodo di almeno due anni, fino al 2018. Le presunte truffe ai clienti e i soldi non trasferiti alle compagnie Ama Insurance Brokers e a Spevi Roma SRL sono confluite nella stessa inchiesta, probabilmente anche dopo le prime segnalazioni degli utenti. Da quanto emerge, la broker avrebbe operato anche per conto della compagnia Amissima Assicurazioni. Nel corso delle verifiche è emerso un presunto caso di truffa anche ai danni dei rappresentanti di un'associazione scout. Convinti di aver assicurato il loro ducato, si sono trovati senza copertura nonostante l'importo pagato. Diversi clienti che si ritengono danneggiati potrebbero costituirsi parti civili nel giudizio che partirà proprio a maggio.